Buonasera a tutti, ringrazio Bruno Vespa per questo invito, saluto Giorgia Meloni. Quando hai detto che siamo a una svolta delle nostre rispettivi percorsi di vita politica, per quanto mi riguarda sicuramente hai detto la cosa giusta, perché io dopo 23 anni di vita politica nazionale per la prima volta sono stato ammesso a presentare il mitico libro di Vespa, il che vuol dire che sono finalmente arrivato a essere qualcuno nella politica, nel senso che fino a 23 anni. Ero probabilmente un peone, un paria, insomma ero una seconda fila, nel senso che non ho mai avuto questo onore, quindi per me oggi è la vera svolta, oggi entro nella serie A della politica italiana e sono molto grato di questa occasione che mi viene data. Mentre invece Giorgia l'ha fatto già tante volte, quindi l'era già in serie A. No, la prima volta lo scorso anno, quindi io lo so dove c'è. Grazie. Grazie.